pausa pranzo adesso un bel paninetto bel panino fatto dal mio papino comincia ancora a nevicare peggiora il tempo prima però un bel sorsetto di birra tra parte del mio mondo come la rsi d'altronde da 15 anni a questa parte mi ha messa giù di neve comunque per oggi basta così tracciato abbastanza domani vengo su coltusca